questo tortino di verdure è facile fresco e tanto buono fatelo con me iniziamo per prima cosa dopo averle lavate asciugate e private delle estremità affetto le zucchine poi taglio le melanzane sempre dopo averle lavate asciugate private delle estremità taglio rondelle i pomodori ho lavato anche loro ed arrostisco tutte le verdure appena tagliate per un paio di minuti per lato arrostite tutte le verdure metto l'olio in un bicchiere aggiungo l'aglio in polvere mescolo poi spendello con l'olio la pellicola che ho usato per rivestire uno stampo per plum cake ed inizio a fare un primo strato con le melanzane metto un pizzico di sale il basilico la mozzarella julienne e alla stessa maniera faccio uno strato di zucchine uno strato con i pomodori e via via finite tutte le verdure e gli ingredienti a disposizione una volta messo tutto presso bene chiudo con la pellicola e metto in frigorifero per almeno 4-5 ore con un peso sopra a pressare poi tolgo dallo stampo trasferisco su un piatto e guardate qui che spettacolo e quanto è fresco e buono mamma mia